Seconda di campionato positiva quasi per le cinque franchigie cestistiche abruzzesi, per buona sorte impegnate tutte nel girone C della terza categoria nazionale. Campli e Giulianova sono in testa con Teramo e Tortona vittoriose, l'unico KO quello del Pescara contro il fortissimo Sansevero che poteva starci. Partendo dal Campli, quella dei Farnesi è stata una prova di carattere, spugnando all'overtime 91-98 il parquet del Tenace Val di Ceppo. Nel prossimo turno gli uomini di Cochimindini affronteranno al Palaborgognoni il temibile Sansevero dell'ex play Buottioni. Sansevero che da pronostico ha superato il Pescara, che non è riuscito a centrare la seconda vittoria stagionale. Ma quello che non è riuscito agli uomini di Raiola lo ha realizzato Letomilu Giulianova in terra foggiana, coach Tisato ha sbancato il legno della matricola Cerignola. MVP il talentuoso play classe 98 e figlio d'arte Banchi, al quale hanno offerto consistente sponda il solito combattivo Ricci e la preziosissima Ala Preti. Nel prossimo turno, prevedendo un match molto tirato, Bastone e Soci sfideranno al Palacastrum il quotato Bisceglie. Come da pronostico, seppur non con uno scarto tanto ampio, l'Ortola conquista sul parche di casa la prima vittoria stagionale, rifilando una sonora batosta alla matricola Fabriano. Sontuosa prestazione anche del Teramo, che dopo l'amara sconfitta, patita al supplementare nel derby di esordio Giulianova, sgretola senza pietà 89 a 67 un Re Canati troppo ondivaco e leggero in difesa, per pensare di battere in trasferta una squadra attrezzata ed organizzata come quella biancorossa. Nel prossimo turno, gli uomini di Cocci Bianchi affronteranno in trasferta il fanalino di coda Senigaglia, lontano parente della squadra di qualche anno Orsono.